qua abbiamo strumentazione qua siamo beh, vedi un piano non si paga il biglietto allora, presentiamoli vediamo i sostituti di novi allora, alle italiettiche ambiamo Andrea Scanarotti un applauso Elio Anzivino alla batteria Dal Taglione Antonio e lei la voce la solista Caterina Caffiero loro sono un gruppo di Capodrise San Nicola quindi abbiamo questo gruppo visto un chiesco ripeto ragazzi io vi auguro che ci sono stato qualche anno fa quattro ragazze a Liverpool hanno iniziato così poi diciamo che sono cresciuti io vi auguro di fare lo stesso percorso quindi loro si esibiscono in un brano cantato e suonato quindi se la cantano e se la suonano signori e signori gli illegal dreams ci cantano Schmuck on the water e non si fa il tempo di sistemare gli uomini per esempio invece le donne sempre perfette puntuali precisa se fosse una donna puntuale qui in mezzo noi uomini lo sappiamo quando diciamo si esce alle nove e alle nove si inizia a preparare Antonio ti devo però un po' riprendere perché forse questi saranno gli anni tuoi ma anche ora posso garantire che quando uno dice usciamo alle nove è anche l'uomo che ogni tanto arriva alle nove e mezza dieci ciò è tu bruciata va bene siete pronti? sono facendo un sound jack per testare il suono poi iniziamo la canzone quindi è un piccolo staccio un attimo solo mi ha detto che fai un sound jack questi sono professionisti questi fanno un sound jack signori e signori gli illegal dreams fanno un sound jack e poi cantano vi lascio a loro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Ok Ma la fate fare sta cosa? Tempiamo internazionale capotese Ladies and gentlemen This evening Von De Falco Noto sono il gruppo dei Illegal Dreams Cantano Ma la fate fare vaga Zbac Andorte Ma la fate fare vaga Montanore On the lake iva in shoreline To make records with a mobile We don't have my sight A friend reserve I am the motor We had a bus All around But I'm stupid with a flag Burn a place Grazie a tutti 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 Grazie a tutti